Vediamo subito i titoli del nostro telegiornale. Ridotta la capienza dei bus e lezioni a distanza, niente cibi e bevande in gruppo nelle pertinenze dei locali. Il presidente Acquaroli firma l'ordinanza per scongiurare un nuovo lockdown. Due decessi e boom di positivi nelle Marche, oltre 300 in 24 ore, in aumento i contagi per contatti stritti con amici e familiari. Penso che magari i ragazzi non stanno molto attenti, cioè certe cose si potrebbero evitare. Stretta sui controlli nelle aziende, a scuola, nelle fermate dei bus e nei luoghi della Movida, l'annuncio del prefetto Vittorio Lapolla per contrastare la pandemia. Riscuote il reddito di cittadinanza ma vive all'estero da due anni, denunciato un altro furbetto dalla Guardia di Finanza. Polveri sottili a bellocchi di fanno, il comune firma l'ordinanza sul trasporto delle merci, obblighi di pulizia e di vieto di stazionare con il motore acceso nella zona industriale. La storia e l'innovazione insieme per la memoria e la socialità, ecco come sarà l'ecomuseo di Metauriglia Orto di Mare. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Purtroppo nelle Marche oggi si registrano due decesse legati al coronavirus. Si tratta di un'anziana di 94 anni deceduta all'ospedale di Ascoli Piceno e di un 93enne di Gabiccemare morto all'ospedale di Pesaro. Entrambi avevano patologie pregresse. Nelle ultime 24 ore c'è stato anche un picco di contagi con 321 positivi su 1700 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. 122 sono in provincia di Macerata, 76 in quella di Ancona, 58 nel Fermano, 40 in provincia di Pesaro Urbino, 23 in quella di Ascoli Piceno e due fuori regione. Questi casi comprendono 85 contagi in ambito domestico e 74 contatti stretti di casi positivi. In rialzo anche il numero di ricoverati ad oggi sono 152, più 18 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva rimangono 19. Vogliamo scongiurare scenari peggiori e un nuovo lockdown. Con queste parole il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, ha annunciato un'ordinanza valida dalla mezzanotte con i nuovi provvedimenti anticontagio. Durante la conferenza stampa che Fanu TV ha trasmesso in diretta, il governatore ha disposto tra le nuove misure la didattica a distanza per alcune classi, per evitare il sovraffollamento negli autobus e il divieto di consumare cibi e bevande in gruppo in prossimità di attività commerciali. Si comincia dal trasporto pubblico locale in realtà, perché la questione della didattica a distanza è la causa di un trasporto pubblico locale che purtroppo non riesce a garantire le distanze e può essere causa di contagio. Quindi in questo senso cerchiamo di alleggerire il trasporto pubblico locale, così da non compromettere le elezioni in presenza per tutti e in questo tempo che è della durata di circa tre settimane fino al 15 di novembre, noi cercheremo di comprendere quello che è l'andamento e di mettere in campo tutte le risorse per cercare di potenziare il trasporto pubblico locale in base alle esigenze che riscontreremo e di riportare tutti gli alunni in presenza. Abbiamo pensato agli interventi che non vanno a condizionare le attività commerciali, ma il comportamento e l'accesso alle attività commerciali che deve essere in sicurezza per tutti. Abbiamo ridotto la presenza di una persona ogni 10 metri quadrati e chiaramente deve essere fatta la sanificazione, deve essere fatta tutta una serie di interventi che sono la mascherina e il distanziamento e non è consentito nei luoghi chiusi all'interno dei centri commerciali la possibilità di mangiare o di bere lungo i corridoi perché potrebbe essere anche questo un elemento che consente al virus di contagiare. C'è l'impossibilità di bere e mangiare in assembramento, lo ripeto, in assembramento significa che due o più persone vicine non possono bere e mangiare nelle piazze e nelle strade perché è chiaro che si mettono in campo tutta una serie di interventi per cercare di ridurre il contagio e poi la distrazione anche seppure di pochi minuti può compromettere quanto si fa in termini anche di sacrifici da parte di tanti. Si stanno facendo più di una serie di interventi a potenziare e a far preparare il nostro sistema sanitario per un eventuale aumento dei contagi anche nei ricoverati e nelle terapie intensive. Sono una serie di azioni che vanno tutti nella stessa direzione e che vanno necessariamente fatti in tempi brevi. Quindi stiamo cercando di fare il possibile. I controlli saranno fatti dalle autorità competenti per evitare che queste ordinanze siano vane ma invece devono essere rispettate perché sono comportamenti che messi tutti insieme possono evitare scenari peggiori e soprattutto possono evitare danni alla salute, alla sicurezza delle collettività e della comunità marchigiana e anche con un eventuale ristringimento delle misure anche danni a livello economico e lavorativo. Per le sale giochi abbiamo detto che è consentita l'attività dalle 8 alle 21. Per quello che concerne lo sport abbiamo d'accordo con le federazioni e col CONI rinviato l'inizio di alcuni campionati di qualche settimana per controllare la crescita o la stabilizzazione della curva epidemiologica per cercare di evitare che gli effetti di questi inizi di campionato possano poi avere un'incidenza negativa sulla curva epidemiologica. E nella provincia di Pesero Urbino aumenteranno i controlli nelle aziende, nelle scuole ma anche nei centri commerciali e nei luoghi della Movida. La stretta è stata decisa oggi durante un incontro in videoconferenza tra prefetto, sindaci, forze dell'ordine e autorità sanitarie. Tutti i dettagli nel servizio di Angelica Panzieri. Il prefetto Vittorio Lapolla oggi ha radunato in videoconferenza i 53 sindaci della provincia di Pesero Urbino per discutere sul nuovo decreto e in particolare sulle restrizioni anti-Covid. Al centro del confronto la chiusura di vie e piazze dopo le 21 dove potrebbero crearsi degli assembramenti. Nessuna chiusura per piazze e vie a Pesero ma nei cosiddetti luoghi della Movida saranno effettuati maggiori controlli per contrastare gli assembramenti e per chi non rispetterà le regole e le multe saranno salate. E' questo il quadro emerso nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Vittorio Lapolla che questa mattina ha chiamato a raccolta i sindaci della provincia oltre ai vertici dell'autorità sanitaria, delle forze di polizia, vigili del fuoco, capitaneria di porto e dell'ufficio scolastico provinciale. L'incontro si è svolto per esaminare alcuni punti dell'ultimo DPCM relativamente alle nuove strette anti-Covid con l'intento di contrastare la progressiva crescita dei contagi. Nel territorio provinciale saranno così intensificati i controlli in tutti quei luoghi considerati sensibili e pericolosi ai fini di un potenziale contagio. I controlli saranno intensificati sia nelle zone in prossimità degli accessi scolastici perché abbiamo visto che molti contagi avvengono nelle scuole ma non all'interno dei presidi scolastici quanto più è facile che in momenti di aggregazione immediatamente precedenti o successivi alle uscite quando si raggruppano questi ragazzi ma anche in tutti quei luoghi in cui i locali possono creare raggruppamenti di persone ma anche la zona del lungomare, via Aldomoro, via Cavour, Baia Flaminia le zone in cui i giovani nelle fasce pomeridiane del fine settimana nelle fasce serali, sempre del weekend, tendono ad aggregarsi. Evitiamolo e quindi un appello alla responsabilità ai giovani perché serve l'impegno e la sensibilità a loro perché la polizia, le forze dell'ordine, la polizia locale intensificheranno questa attività di controllo. Tutti poi i partecipanti al comitato hanno condiviso l'esigenza di un forte appello alla comunità che sarà reiterato poi dai sindaci a livello locale alla più rigorosa osservanza delle misure di contenimento e al senso di responsabilità di tutti i cittadini. Differenti le posizioni dei cittadini pesaresi sul rafforzamento dei controlli c'è chi è d'accordo e chi invece lo trova un provvedimento esagerato. Speriamo che i cittadini capiscano di essere accorti con mascherine, distanziamenti, tutto quello che serve e che insomma loro facilitano anche in questo modo il compito dei sindaci ma i sindaci devono essere accorti, molto accorti. Bisogna rispettare le regole, rispettare gli altri e i sindaci devono avere quel potere giusto e di saggezza di controllare le cose e farle rispettare. Secondo me è un po' esagerato. Cioè ok ci sono tanti assembramenti però mi sembra un pochino eccessivo chiuderli dopo le 9 perché non è che prima delle 9 gli assembramenti non ci sono perché alla fine se i ragazzi sanno che dopo le 9 le piazze dei vie principali sono chiuse escono prima. Esatto, o escono prima o comunque vanno a fare l'assemblamento magari in altri posti dove non è vietato quindi alla fine l'assemblamento c'è comunque volendo. E poi per dire se chiudono via Branca chiudono anche le vie con i negozi. Esatto. E proprio sui controlli e sulle restrizioni questa mattina abbiamo chiesto il parere dei fanesi. Stretta sulla movida e dalla circolazione maggiori precauzioni e restrizioni rivolte all'attività consentite dal DPCM. Scuole superiori con ingressi scaglionati per decongestionare i bus ogni mattina pieni di studenti. Sono solo alcuni dei probabili punti trapelati dalla conferenza stampa tenuta dall'assessore alla sanità Filippo Salta Martini nella giornata di ieri. Questa mattina abbiamo sentito i pareri dei fanesi a riguardo. Credo che le restrizioni non dovrebbero essere molto rigide anche perché la popolazione fanese è abbastanza fatta da persone anziane e uno stato di coprifuoco sicuramente darebbe molta depressione alla gente anche alle persone come me che non sono anziana ma comunque avendo 67 anni il chiudermi in casa è veramente triste. Ripeto, anche perché siamo abbastanza rispettosi delle regole mascherina e quanto distanziamento. quindi io penso che non debbano essere molto severi. Se la firmano evidentemente avranno motivo per farlo speriamo che sia proporzionata alla gravità della situazione sanitaria. Chiaramente le attività economiche e la vita in generale ne sta risentendo tanto. Questo è chiaro già da una settimana che vediamo che la gente in giro sta calando e i negozi entrarono sempre più in difficoltà. Le positività di questa distrittiva che facciano bene alla gente è farglielo capire però perché secondo me è la gente che dovrebbe capire di più di stare attento. I settori che riguardano i giovani sono quelli che spaventano di più i fanesi che sperano che le restrizioni della nuova ordinanza siano fatte per limitare gli assembramenti e gli spostamenti dei ragazzi considerati una mina vagante sia a causa della scuola che a causa dei trasporti che per le poche attenzioni poste quando sono in compagnia dei propri amici. Gli spostamenti soprattutto gli spostamenti poi tutti i ragazzi che prendono il pullman quelli che escono da scuola senza mascherina mascherina dentro la scuola niente fuori sono tutti momenti a rischio e quindi il contagio lo possiamo avere in ogni momento anche se vai a prendere un cappuccino. Si devono adattare un po' tutti a qualche sacrificio i settori sono quelli giovanili non rispettano perché io verso l'una ci sono dei ragazzi che escono da un istituto professionale come pecoroni tutti senza mascherina La scuola è fondamentale che vada avanti secondo me magari con delle precauzioni ma deve andare avanti la movida è chiaramente un altro discorso tutti rinunciamo e magari anche i ragazzi possono darsi un po' una regolata insomma abbiamo visto il sabato scorso anche quello prima obiettivamente la sera c'era veramente tanta gente tanti ragazzi in giro anche se va detto che molti hanno la mascherina hanno le loro precauzioni però insomma visto che i contatti sociali vanno un po' ridotti ecco magari una regolatina anche loro se la potrebbero dare e molti contagi derivano dall'ambiente domestico ma anche dai contatti stretti ma che cosa fanno i cittadini per evitare questi rischi a che cosa sono disposti a rinunciare sentiamo sempre nel servizio di Letizia Marchionni L'ondata di contagio ormai galoppa sono sempre di più i positivi al coronavirus in regione tanto che solo nella giornata di oggi se ne contano 321 un boom di casi in continuo rialzo che comporta un aumento di pressione sui servizi sanitari e che con l'avvicinarsi dell'inverno preoccupa Filippo Saltamartini assessore regionale alla sanità che dichiara siamo in guerra contro un nemico terribile mentre in guerra ci si poteva fidare dei propri compagni il coronavirus tende ad insinuarsi anche tra i rapporti più stretti portandoci a dover stare attenti anche a parenti amici e talvolta anche genitori la maggior parte dei contagi infatti risalgono secondo i tracciamenti all'ambito domestico non si parla però solo di familiari ma anche di amici fidanzati e conoscenti questa mattina abbiamo chiesto il parere dei fanesi a riguardo io ho una nipote se lei mi va a dormire da un'amica o mi esce il sabato con gli amici poi torna a casa io non lo so se lei ha contratto il virus però me lo può attaccare a me e quindi gli spostamenti io personalmente non ho dei contatti molti contatti capito quindi le persone che conosco comunque sono persone che fanno attenzione a lei in famiglia sta adottando qualche restrizione in più tra in famiglia no fuori sì cioè cercano di non andare dove c'è l'assembramento di persone penso che magari i ragazzi non stanno molto attenti cioè certe cose si potrebbero evitare ritengo che i contagi avvengano con i giovani che li vedo ammassati senza mascherine in ogni luogo quindi poi portano a casa il virus da lì si distribuisce secondo me con le persone più anziane abbiamo deciso di farle stare a casa aiutiamo noi a fare tutto quello i nostri genitori che sono più anziani di aiutarli noi e quello che possiamo fare mascherine disinfettazione e il resto farli uscire il meno possibile siccome vivo da solo quindi diciamo che non ho questo problema però è nei nuclei familiari che bisognerebbe insistere e tra i ragazzi ridurre le uscite con gli amici rinunciare ad aperitivi e cene ma anche evitare di incontrarsi con nipoti e parenti il coronavirus come un muro separa ognuno dai propri affetti con un metro di distanza non ci baciamo più non ci abbracciamo più specialmente con la nipote che è la più giovane quella che esce di più abbiamo ridotto anche gli incontri del sabato quando uscivamo tra amici andavamo a cena la domenica andavamo a pranzo fuori cerchiamo di ridurre tutto questo finché la situazione non migliora finché non c'è il vaccino specialmente i vecchi come me possono essere ridotte anche le uscite magari invece sabato sera di stare in giro possono stare dentro casa comunque fare altre cose quando magari andiamo a trovare i nonni mettiamo la mascherina sempre c'è il distanziamento sì sì cerchiamo di evitare che vengano i figli a casa perché i figli vanno a scuola vanno con i mezzi pubblici io esempio con gli amici teniamo le distanze teniamo la mascherina facciamo il caffè facciamo l'aperitivo e onestamente io ho fatto tre tamponi nel giro di un mese ma io sono negativa come tutte le mie amiche insomma riscuote il reddito di cittadinanza ma vive all'estero la guardia di finanza di peso ha scoperto e denunciato un 27enne che per ottenere sussidio pur essendo formalmente residente in Marocco dal settembre 2018 ha dichiarato nella domanda necessaria al rilascio di abitare in un comune del territorio pesarese da almeno due anni una falsità che ha consentito al giovane di percepire indebitamente per circa due anni appunto 7500 euro il ragazzo è stato segnalato sia all'autorità giudiziaria per aver percepito erogazioni e danni dello Stato sia all'Inps per la revoca del sostegno e il recupero della somma ed ora torniamo a parlare della situazione ambientale della zona Bellocchi a Fano perché a novembre partiranno ulteriori analisi questi controlli ha riferito l'assessore Barbara Brunori consentiranno di individuare che cosa influisce sul livello elevato delle PM10 in seguito i correttivi da adottare lo scorso 10 settembre Comune Arpam avevano installato due mini campionatori ma in attesa dell'avvio dei nuovi monitoraggi l'amministrazione questa mattina ha firmato l'ordinanza sindacale con la quale ha deciso di attuare alcune misure contenitive al fine di garantire la tutela della salute pubblica con il provvedimento viene disciplinata la bagnatura delle strade non perfettamente asfaltate o sterrate il deposito lo stoccaggio nonché il trasporto di materiali in genere suscettibili di produrre polveri attraverso l'adozione di alcuni accorgimenti come ad esempio la pulizia periodica dell'area di deposito e il lavaggio delle ruote e del telaio dei veicoli utilizzati per la distribuzione inoltre sempre per questi mezzi c'è il divieto di stazionamento fermata e sosta a motore acceso gli obblighi e i divieti riguardano un'area che comprende quasi tutta la zona industriale di Bellocchi ma maggiori dettagli li troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it è stato presentato oggi il progetto dell'ecomuseo Metauriglia un edificio dedicato alla storia alla gente e ai manufatti della frazione fanese che potrà diventare anche un luogo di lavoro e di socialità il servizio di Filippo Pucci Si chiama Metauriglia Orto di Mare ed è il progetto nato nel 2017 dal circolo culturale Albatros 87 che ha come obiettivo di creare un piano di interventi pluriennale dedicato alla località di Metauriglia costruita negli anni 30 alle porte di Fano La borgata conta 115 case coloniche dove abitarono a partire dal 1934 più di 500 ortolani che per riuscire a guadagnare abbastanza per vivere facevano anche i pescatori ecco appunto il nome del progetto Metauriglia Orto di Mare l'obiettivo di questo piano di lavoro ben studiato non è solo mantenere viva la memoria storica del luogo ma restituire vivibilità e qualità della borgata attrarre investimenti e realizzare interventi urbanistici di riqualificazione ed è per questo che un gruppo di visionari del posto ha pensato di realizzare un eco museo nella vecchia cooperativa ortofrutticola quella attaccata alla chiesa di San Benedetto abbiamo pensato che la sede della cooperativa che è questo edificio alle mie spalle sia il luogo ideale al piano superiore eco museo al piano inferiore un'app di comunità dove possano avvenire le cose che già avvengono animate dal circolo Albatros che è il promotore del progetto ma dove anche si allargherà l'utenza vorremmo fare in modo che non scappino via i giovani da questo luogo ma che tornino a vivere quindi ci sarà una piccola memo dove si potrà venire a studiare e dove si potrà anche iniziare i primi passi come co-working il luogo organizzerà anche eventi cineforum laboratori per pensare a un futuro per questa città e per questo paese ma anche per offrire intrattenimento ai turisti il progetto preliminare è stato finanziato dalla regione Marche e dalla Profilglas per mano di Giancarlo Paci originario proprio di quel posto il progetto architettonico del CH più che è uno studio di Pesaro ha ideato un segno fortissimo cioè immaginati una rampa colossale che avvolge tutto l'edificio una volta che saranno state tolte le superfettazioni costruite in questi anni che ospiterà piante che ospiterà vasche dove poter piantare anche il cavolo e i metaurigli si sono già detti più che d'accordo di occuparsene il progetto architettonico ha studiato delle coperture alla base di questa rampa che sale questa grande scalinata intrecciate come erano le cassette dei cavoli l'altro aspetto molto caratteristico anzi molto molto intelligente è che l'architetto di Pesaro non ha pensato all'edificio e basta ma tutta l'area legare ancora di più la chiesa a questo edificio e farne una piazza che Metauriglia non ha e ancora cronaca un incidente si è verificato oggi pomeriggio poco prima delle 18 lungo la strada provinciale Corinaldese a Senigallia per causa ancora in fase di accertamento tre auto si sono scontrate e una di queste si è ribaltata sul lato nello scontro sono rimaste ferite tre persone una è stata trasportata con l'iliambulanza al torrette di Ancona sul posto oltre al 118 i carabinieri i vigili del fuoco di Senigallia intervenuti con un autobotte e un mezzo 4x4 per mettere in sicurezza la zona e anche questa sera diamo spazio alle vostre segnalazioni che ci portano al cimitero centrale di Fano dove da inizio anno una famiglia attende che questa tomba venga sistemata la caduta di una pianta aveva provocato la rottura di una parte della tomba stessa ma nonostante le numerose segnalazioni e le autorità competenti oggi non è stata ancora ripristinata tra pochi giorni si celebra la commemorazione dei defunti ci hanno scritto ed è una vergogna e vi annuncio che lunedì sera torna il nostro programma primo cittadino e l'ospite sarà il sindaco di Urbino Maurizio Gambini in questo cartello vedete i nostri numeri di telefono sia per intervenire in diretta che per mandarci messaggi anche con whatsapp tra poco invece intorno alle 21.15 trasmetteremo il primo appuntamento della rassegna intitolata esplorare i confini organizzata dal circolo culturale Bianchini di Fano di cui Fano TV è media partner di questo ciclo di incontri di conferenze io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.